Sono 11 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo su 1.512 tamponi analizzati rispetto alla giornata di ieri negli istituti preposti dei quattro capoluoghi di provincia e che hanno un range anagrafico che va dai 20 ai 73 anni di età e che fanno salire il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'emergenza coronavirus a quota 3.978. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 2.962 tra dimessi e guariti. I casi odierni fanno riferimento a tutte e quattro le ASL. Quattro sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila che continua a far registrare numeri più elevati in questo inizio di settembre. Stesso numero nella provincia di Pescara, quattro, mentre sono due in provincia di Teramo e un caso soltanto fa riferimento alla ASL Teatina. Sono 40 i pazienti ricoverati di cui tre in terapia intensiva con un decremento di una unità rispetto a ieri, mentre non si registrano ancora una volta nuovi decessi che restano fermi ormai da parecchi giorni a quota 472. 504 invece sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, con un incremento di tre unità rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 544, più 3 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente nella regione Abruzzo, 173.892 test. Del totale dei casi positivi 553 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 935 in provincia di Chieti, 1.729 in provincia di Pescara, 730 in provincia di Teramo, 30 fuori regione e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.